Nella Bibbia viene descritto un modello economico... Sì, è quello che ci governa adesso. È proprio quello che ci governa adesso. Nella Bibbia c'è scritto voi non vi farete mai prestare denaro dagli altri, voi presterete denaro, tra di voi non prestate denaro di interesse, il denaro di interesse lo prestate agli altri, perché chi presta denaro è padrone, chi riceve denaro in prestito è schiavo.